di 6 minuti di un piccolo video purtroppo la qualità siccome scaricata da internet non è il massimo però a beneficio della comprensione delle parole che verranno pronunciate se avete difficoltà con l'audio avete il testo sul foglio che vi è stato consegnato sapete questo video cos'è? è il messaggio, la spontaneità di Papa Francesco in un incontro che lui fa ad Assisi all'Istituto Serafico un mese e mezzo fa il 4 ottobre dice delle cose che questa mattina vedrete solo in perfetta sintonia dopo un secolo e mezzo con quello che pensava, desiderava e faceva il nostro padre fondatore vi chiedo adesso il massimo della concentrazione, sono 6 minuti di video se fate fatica con l'audio, iniziate bene, non si sente con social